È davvero, come detto, un privilegio avere in diretta a Teleroma 56 il viceambasciatore italiano in Israele, il dottor Gianmarco Macchia. Buonasera e grazie per la disponibilità. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Teleroma 56 la seguivo sin da bambino, con volti che ora trovo in altre emittenti televisive la domenica sera. Addirittura mi ricordo una Teleroma 56 che mandava le partite del Commodore 64, le partite di pallone, erano altri tempi, ma comunque sempre grandi professionalità come lo sono tuttora e grazie ancora e grazie agli ospiti. Grazie a lei davvero anche per le belle parole. Dottor Macchia, è la settimana del derby. Io ovviamente l'ho introdotta e presentata per ciò che lei ha come ruolo, ricopre come ruolo viceambasciatore italiano in Israele. Non ho omesso di dire, perché lo dico adesso, grande tifoso della Roma, tra le altre cose, il che in questo ambito non guasta. In Israele, ma non è soltanto l'Israele, perché lei ha avuto modo di vivere e di lavorare anche in altri posti lontani dall'Italia. Come si vive all'estero la fede romanista, dottor Macchia? Sicuramente la si vive intensamente, perché comunque è una passione che si ha nel cuore e quindi la si porta ovunque. Chiaramente non si vive in prima persona la presenza allo stadio, anche se vedendo in televisione l'evento sportivo, che può essere o il picco, che è il derby o altre partite, chiaramente si vive il tutto con quella emotività che ci caratterizza quando si è sugli spalti. La si vive sì lontano, ma comunque vicino a tanti altri tifosi che vivono all'estero, a New York c'è il Roma Club New York, qui in Israele c'è il Roma Club Gerusalemme, che oltre a unire appunto le vari tifosi per le partite della Roma organizza una scuola calcio che mette insieme bimbi di diverse religioni, di diverse classi sociali e quindi ha anche un valore ancora maggiore rispetto a quello prettamente sportivo. Ho vissuto l'esperienza di tifoso all'estero, in Turchia, quindi un altro paese in cui chiaramente il calcio ha un ruolo centrale. In tutti questi paesi chiaramente ci sono tifosi della Roma, ho incontrato tifosi della Roma, ho vissuto quelle fasi storiche della Roma di Ranieri piuttosto che di Spalletti, perché poi la prima esperienza all'estero e diplomatico l'ho fatta nel 2006, quindi quando ormai l'era capello era già conclusa. Però ci sono state comunque tante piccole, medie e grandi soddisfazioni. Qui a Tel Aviv, da ultimo il Roma-Barcellona del 3-0. Ecco, se per, ma lo è tuttora chiaramente, ma parliamo di quando era calciatore, Francesco Totti all'estero è stato un po' il passepartout, perché molto spesso in ogni angolo del mondo, quando si capisce che si ha a che fare con un italiano, Francesco Totti diventa quasi un saluto, si sostituisce al ciao, al buongiorno e al buonasera. Oggi, in Israele, dove ci sono tantissimi tifosi di squadre italiane, tantissimi tifosi di quelle della Roma, qual è il giocatore della Roma in cui i tifosi della Roma, in Israele, a Tel Aviv non lo specifico, ma comunque in Israele si identificano maggiormente? Io penso che in questo momento, che anche la forza di questa squadra ci si identifica con tutta la squadra, perché Paolo Fonseca ha creato e ha garantito quella coesione del gruppo che permette a tutti di essere poi un tassello fondamentale. È chiaro che il Dzeko di turno può essere più conosciuto da alcuni, piuttosto che Zaniolo, però è una Roma dove il gruppo prevale. Anche con Totti, chiaramente, il gruppo era fondamentale, però, chiaramente, Francesco Totti per ovvi motivi faceva la parte del Leone. Però, ecco, in questa squadra, vista dall'estero, dai tifosi che la seguono dall'estero e anche gli israeliani che la seguono, ciò che rileva è il gruppo nella sua interezza, anche perché in ogni settore del campo ci sono e stanno emergendo importanti individualità. È chiaro che poi, ormai, con le televisioni satellitari, con lo streaming, ognuno di noi in casa può avere i mezzi per seguire la partita anche da solo, ma c'è anche un motivo per aggregarsi quando possibile, mi rendo conto che in questo periodo è un po' più difficilmente, ma ci si ritrova con amici anche in Israele. Ci è capitato di andare a parlare con tifosi della Roma, anche professionisti negli Stati Uniti. Siamo stati già anche, da l'altro lo salutiamo, Massimo Lomonaco, abbiamo già fatto un collegamento con lui, il corrispondente Anza, proprio lì da Tel Aviv, ma siamo andati in Melgio, siamo andati in Olanda, in Inghilterra. Insomma, è anche un motivo di aggregazione, quando possibile. Succede così anche in Israele? Insomma, ci si ritrova tra colleghi di fede calcistica per vedere le partite? Assolutamente. In Turchia ci si ritrovava settimanalmente, in ambasciata c'erano vari tifosi della Roma e non solo di calcio. A New York c'era il Roma Club New York nel ristorante della Soralella e quindi ogni domenica, ogni sabato, quando la Roma giocava, parliamo di almeno 50, 60, anche 100 persone che si riunivano. Lo facciamo anche qui in Israele, tra amici, molte volte a casa mia. I numeri sono un po' più bassi. Roma Club invece, Gerusalemme, dista grossomodo 70-80 km da qui, invece ha un bacino leggermente maggiore. Però chiaramente quando si può la si vede insieme nelle rispettive case, a differenza di New York dove, come dicevo, c'era un vero e proprio luogo, la sede poi del Roma Club. Allora faccio una domanda proprio al diplomatico, inteso proprio come arte della diplomazia in questo caso, per capire anche perché poi il tifo è un po' un discorso legato alla filosofia di vita. Ovviamente era tifosi della Roma, non per fare, come si suol dire, i piagnoni, ma siamo stati anche abituati negli anni a episodi arbitrali che comunque hanno recato un documento alla squadra, magari retoci da una buona prestazione, magari un errore, chiamiamolo l'errore arbitrale, poteva condizionare la partita. Gianmarco Macchia, quale categoria appartiene? A chi continua a preferire il profilo da qualche anno sposato dalla Roma? Ossia al basso profilo, magari anche pubblicamente, mediaticamente lamentarsi poco? Oppure a un certo punto, soprattutto nel calcio italiano, arriva anche il momento in cui è giusto battere i pugni sul tavolo quando magari ci si rende conto che gli errori iniziano a essere troppi da parte degli arbitri? Ma innanzitutto penso che nel medio e lungo periodo quello che premia è sempre l'impegno. Ti può andare male una volta, ti può andare male la seconda volta, però poi se la squadra c'è, prima o poi lo scudetto si vince. Lo ricordiamo bene anche nell'82-83, quella fu una squadra alle cui fondamenta erano state costruite negli anni precedenti. Avremmo potuto sicuramente vincere uno scudetto in più, senza il caso Turone. Però ecco, prima di tutto l'impegno. Detto questo, in un ambiente, in un insieme di società, qual è quello della Lega, se tu non sei come Presidente e come società, soprattutto se poi sei votata in borsa, non sei soddisfatta della professionalità o di alcuni errori arbitrali che possono verificarsi più volte, allora è anche giusto, sempre nei dovuti modi, farlo presente, perché ovviamente è anche un segno di attenzione nei confronti della propria società, dei propri giocatori e dei propri tifosi. Allora la saluto davvero portandole via gli ultimi 20 secondi. Per la serie non riceverà mai una domanda meno originale di quella che so per farle. Venerdì sera c'è il derby. Gianmarco Macchia, firmerebbe per un pareggio? No, bisogna scendere in campo per vincere, ne abbiamo assolutamente tutte le capacità, soprattutto vedo come grande punto di forza la serenità dell'allenatore. è un allenatore che infonde oltre veramente un... si vede che i giocatori scendono in campo sereni, perché evidentemente è la testa, ovvero Paolo Fonseca, che gli dice di... che dice loro di funzionare in quel... di giocare in quel modo. quindi se viene affrontato con... è sempre un derby, ma se viene affrontato con adeguata serenità, il che ovviamente a Roma non è sempre, come posso dire, l'ingrediente più consueto, abbiamo veramente buone possibilità. quindi non accontentiamoci mai del pareggio, soprattutto nel derby. Gianmarco Macchia, viceambasciatore italiano in Israele, è stato un piacere e un privilegio. Grazie di cuore e buona serata. Grazie a voi per l'invito, in bocca al lupo e forza Roma. Sempre. Grazie, davvero. È stato un privilegio, oltre che un piacere di averlo in diretta.